Ciao, oggi prepariamo insieme i pancake senza glutine e senza lattosio per la colazione. Ecco gli ingredienti che ci serviranno, li troverete anche nel box sotto il video. Iniziamo la preparazione mettendo le polveri in una ciotola, quindi la farina senza glutine, un mix universale utilizzato, lo zucchero e il lievito. E con la frusta mescoliamo qualche secondo. Mettiamo un attimo da parte e ci occupiamo degli ingredienti liquidi. Quindi dividiamo i tuorli dagli albumi in due ciotole separate. Nella ciotola dei tuorli, mescolando, andiamo ad aggiungere anche il latte e l'olio di semi di girasole. A questo punto incorporiamo i liquidi alle polveri, mescolando bene con la frusta. Guardate, ci vuole veramente 5 minuti a prepararli. E quindi creiamo questa sorta di pastello. Per ultimo montiamo a neve ben ferma gli albumi con lo sbattitore. Se volete essere sicuri che sono ben montati, provate a capovolgere la ciotola. Se stanno fermi, vuol dire che sono perfettamente montati. Le incorporiamo alla pastella, mescolando bene. A questo punto prendiamo la padellina più piccola che abbiamo in casa, la ungiamo leggermente e la scaldiamo e mettiamo un mestolo della nostra pastella. Vedete che quando inizia a fare queste bollicine in superficie è pronta per essere girata. Alla fin fine, due minuti per parte e sono belli che pronti. Procediamo così fino a terminare l'impasto. Con queste dosi ne verranno circa una decina. Quindi facciamo una bella pila di pancake sul nostro piatto. E possiamo poi completarli con quello che più ci piace. Io ho utilizzato una crema vegana al gianduio e delle fragole fresche. I più classici sono ovviamente con lo sciroppo d'acero, ma si possono anche mettere dello yogurt greco, del miele, di frutta fresca, tutto ciò che vi piace e che avete in casa. Sono perfetti per la colazione, soprattutto della domenica, quando possiamo fare colazione con calma e senza fretta. Piacciono a tutta la famiglia. E sono buonissimi. Senza rinunciare a niente. Se ti è piaciuta questa video ricetta, lascia un mi piace. Io ti aspetto al prossimo video. Ciao! Ciao!